Vediamo che lo sci è molto più stretto rispetto allo sci a certino e ha una struttura ad arco. Per farvi del tono, meno facile è volare, noi se siamo rigidi abbiamo paura e cadiamo indietro. Allora, prima volta sugli sci da fondo, però devo dire che non me la cavo tanto male, ma anche le mie compagne ce la stiamo cavando. Questa è la mia prima volta in assoluto su degli sci. Sto andando benino, però ho già una caduta, l'ho fatta. Sto andando Sto andando Sto andando Sto andando